In sostanza abbiamo chiesto ai cittadini cosa pensano e dei consigli su quello che è il commercio giuliese. È uno dei primi tentativi a livello nazionale che viene fatto, sicuramente il primo in Abruzzo. Abbiamo ritenuto importante sia Confesercenti che Confcommercio che stanno lavorando insieme a questo discorso. Ritengono particolarmente importante sentire il parere dei cittadini per arrivare a sviluppare quello che sarà una metodologia più complessa di sviluppo di strategie propositive per il commercio retail. Chiaramente trattandosi di nostri associati parliamo di commercio, di piccolo commercio. Tutti noi sappiamo avere sofferto una crisi congiunturale negli ultimi anni veramente grave. Oltre a questa crisi congiunturale il piccolo commercio soffre anche di una crisi sistemica in quanto che si trova, indipendentemente dalla congiuntura, a competere con una forte presenza della grande distribuzione che noi intendiamo, non dico ridimensionare, ma dare forza a noi stessi per riuscire a maggiormente competere con queste strutture. È emersa sostanzialmente da parte dei cittadini, da parte dei turisti, una grande voglia di piccolo commercio. Noi siamo convinti che la customer è una delle operazioni analitiche del territorio più importanti che oggi anche un ente e anche un'organizzazione di categoria o organizzazioni che collaborano verso questi nobili obiettivi debbono assolutamente mettere i primi punti degli ordini del giorno per la programmazione delle economie locali. Tutto quello che riguarda l'animazione, tutto quello che riguarda anche l'evidenza del commercio urbano deve essere messo in evidenza soprattutto con delle iniziative che rendano consuetudine un calendario che nell'arco dell'anno mette al centro il commercio e tutto ciò che agisce intorno al commercio nella convivenza anche con delle nuove realtà che le legislazioni nazionali e regionali hanno posto in essere negli ultimi vent'anni.